Una rete di postriboli cinesi in tutto il nord Italia. Iniziò a Stresa, nell'autunno del 2020. L'indagine che portò la squadra mobile di Verbania a individuare oltre una ventina di immobili presi in affitto per insediarvi il mestiere più antico del mondo. La segnalazione arrivò dai residenti di via Selvalunga, che lamentavano un sospetto via vai di persone da un appartamento abitato da Asiatiche. Accertamenti e appostamenti portarono la polizia a scopo... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Beba Steck House, a Ornavasso!